che sfiga che maledetta sfiga o meno affidabilità non chiamiamola sfiga chiamiamola probabilmente affidabilità però ci vuole anche il timing nella vita veramente quando doveva succedere questo problema charleclerc a un minuto e mezzo dalla fine della sessione di q3 sessione di q3 che è iniziata tardissimo almeno il cronometro è partito però tutti quanti tardano l'ingresso in pitlane per non dare la scia all'altro tutti si riducono all'ultimo chi ha problemi charleclerc classicone non l'avrei mai detto poi il siparietto tra muretto box e il pilota anche lì bellissimo oggi è una gran giornata ragazzi che poi è stato un weekend ostico per la red bull hanno lavorato tantissimo al setup a 38 minuti dalla fine perez stravolge la macchina verstappen a 30 minuti dalla fine stravolge la macchina in fp1 complice un weekend dove si è lavorato dove hanno avuto problemi dove abbiamo avuto il dubbio anche per il q3 che max verstappen avesse danneggiato il fondo o piccolezze però tutto nel momento giusto anche la bandiera rossa di max verstappen quando va a capitare in prove libere in che punto della pista proprio vicino ai box nella via di uscita di fianco poi ovviamente lui è bravissimo a metterla lì perché sa che c'è una via di fuga però è lì fa la capitale in curva 6 fa la capitale in curva 10 che urto io non arrivo a fine anno di questo passo che poi la situazione si è ribaltata in un secondo in queste qualifiche mercedes dalle prove libere uscita dominatrice assoluta e candidata per la vittoria 38 giri con arde in 1 0 9 2 1 0 9 3 1 0 9 5 russell e hamilton hanno pressoché lo stesso passo abbiamo un altro timore adesso quest'anno perché mercedes è quasi non dico rinata però dipende dai circuiti però è così è una situazione stravolta a 20 secondi dalla fine chi erano primi al q3 lando norris oscar piastri george russell e luis emilton tra l'altro luis emilton ha buttato la pole position oggi in curva 3 andando lungo perché forse il candidato alla pole e alla vittoria doveva essere proprio lui adesso ok che comunque rimane una qualifica sprint io forse mi sto anche agitando più del normale però è così dura essere un tifoso ferrari comunque è una qualifica sprint la gara è domani poi la qualifica è di nuovo domani e infine c'è la gara questi sono gli orari mi raccomando seguite anche formula 2 e formula 3 ci tengo particolarmente sono categorie che non hanno niente di meno rispetto alla formula 1 si piazza in pole max verstappen che beffe motorizzati mercedes proprio all'ultimo in quinta posizione ne approfitta e si mette davanti a luis emilton carlos sainz quindi primo max secondo lando norris terzo oscar piastri quarto george russell quinto sainz e sesto luis continua ad essere una qualifica sottotono per caco peres che prende un secondo e tre lo so compagno di squadra che parte in pole ripeto un secondo e tre è veramente veramente tanto oltre a un gap molto importante in qualifica abbiamo un gap molto importante anche per quanto concerne i passi gara entrambi nelle fp1 hanno girato con gomma media max verstappen ha girato sul 10 e mezzo 1 10 e mezzo 1 10 e 7 mentre caco peres più volte è andato anche a sfiorare l'11 questo però con power unit giù di potenza con una macchina a pieno carico di carburante un discorso diverso lo possiamo fare con ferrari con mclaren e con mercedes sono tutti quanti molto vicini alla fine il gap per quanto riguarda il passo è di circa due decimi e sapendo che non tutti spingono al massimo e non tutti hanno lo stesso carico di carburante mi sento di dire che la gara è pressoché aperta forse chi ha spaventato un po di più rispetto agli altri ma magari sono stati poco conservativi sono i due mercedes ripeto i due mercedes con gomma hard 38 giri luis emilton ha portato a casa e non sono per nulla pochi è un passo gara ottimo e si hanno tenuto per sé anche qualcosina in tasca mi aspetto una gran gara da parte di russell e da parte di emilton come a barcellona qui potrebbero lottare per la vittoria però il dubbio di una v15 non ha piena potenza ce l'ho in particolare perché george russell durante le fp1 i momenti in cui cercava un po di spingere gli faceva faceva un 0 8 e 7 tempo troppo alto per una simulazione da qualifica con gomma hard dunque le sorprese potrebbero anche non essere finita peccato perché nel complesso la sf 24 qui non si comporta male in particolare al primo settore possiamo dire che è uguale a verstappen è uguale a lando norris è uguale a luis emilton sia con carlo sainz ma anche con charles clerc forse paga tre chilometri orari però non è il punto dove si fa più male la rossa diciamo che se vogliamo indicare dei punti dove va leggermente male è curva 6 curva 10 dove si è parlato tanto di bouncing avrei voluto fare un discorso su quest'ultimo perché ad esempio mclaren sia catalonia ma anche gran premi precedenti a miami ha avuto tanto bouncing eppure sono stati a parere mio i migliori in pista questo perché è un fenomeno che su queste vetture effetto solo è normale capiti è il controllo di quest'ultimo che fa la performance però per mia sfortuna abbiamo altre cose protagoniste ossia carlo sainz in quinta e charles clerc in decima e poi piccola realtà ciliegina sulla torta logan sargent mette fuori il suo compagno di squadra passa al q2 poi non fa nient'altro di meglio se non la quindicesima posizione però mette fuori il suo compagno di squadra che si piazza in diciannovesima ed è un tema visto che luca sargento l'abbiamo mai visto per tutta la stagione oggi si materializza ed è bello parlare anche di lui tra l'altro altro nome da tenere sott'occhio in particolare in qualifica poi vediamo se riesce a concretizzare in gara e lance stroll che si piazza in dodicesima posizione mettendo ancora una volta dietro il suo compagno di squadra quest'anno alonso da stroll le sta non prendendo ma sicuramente sta avendo vita difficile ok che questa aston martin non è una grandissima auto rispetto a quella dello scorso anno però visto che stroll è stato rinnovato probabilmente delle motivazioni a supporto del rinnovo ci sono state nulla oltre a questo vi rimando al mio profilo instagram perché oggi abbiamo lanciato le magliette in collab con 12 cilindri fate un salto vedete cosa vi parla iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche seguitemi sui social mi raccomando trovate tutto in descrizione io vi saluto da torio era tutto passo e chiudo